Ciao amici da Frank Bianconero, l'analisi della partita più chiara la faccio domani, oggi mi voglio soffermare perché tanti sui social si stanno chiedendo se fosse possibile questi infortuni correlarli con il campo non in buonissime condizioni dopo aver giocato prima Lazio-Napoli solo 24 ore prima. La mia risposta è sì, intanto in bocca al lupo a due ragazzi perché secondo me stiamo parlando di due ragazzi potenzialmente tra i migliori in Europa. Zaniolo secondo me è il più bravo talento italiano per fisicità, forza, tecnica, carattere ed è Miral un tipo tosto, questo lo dà la dimostrazione che dopo l'infortunio voleva addirittura entrare in campo e poi gli esami di oggi hanno evidenziato che addirittura non è lo stesso infortunio di Zaniolo ma un po' più grave perché ci aggiungono anche il menisco mediale. Purtroppo per tutte e due stagione finita, ancora di più per De Miral, Zaniolo può darsi che in extremis potrebbe essere utile per l'europeo ma poi si sa la condizione fisica è quella che conta in questi casi. La mia risposta su questi due infortuni sì, è colpa della Lega dal mio punto di vista, è colpa di un'organizzazione scellerata, è colpa di un calendario fatto da politici del calcio e io sono sempre lì a dire che ad ogni settore va dato la possibilità di gestire a gente che è stata ed è capace in quel settore. Se non si dà la Lega in mano ad ex o grandi ex giocatori ma anche uno per squadra, Costa Curta, Cambiasso, Nedved, Salvatore Bagni, sto facendo dei nomi a caso faccio così, Totti, Baggio, questi grandi giocatori che sono gli unici che possono sapere dinamiche o come funziona nel calcio, quando uno è stanco, quando uno è meno stanco, quando il campo va bene, quando non va bene, perciò stiamo parlando del nulla. Fin quando il calcio è in mano a questi politicanti che non conoscono nemmeno secondo me l'ABC del calcio? Noi siamo ridotti ad avere una Lega dove per esempio oggi fanno giocare il Parma, un giorno dopo la Roma che deve giocare poi in Coppa Italia a Parma-Roma alle 21.15. Io sono in Emilia Romagna, il freddo e l'umidità che c'è qui non ve lo posso neanche dire, però la Lega decide così. I calendari non parliamo come li fanno perché non poteva giocare il Parma o ieri come la Roma e far giocare una squadra che non ha la Coppa Italia in settimana? Questo no. I manager in Lega servirebbero soltanto per vendere il brand. Ma vendere il brand da che punto di vista? Che non abbiamo organizzazione. Se non si fa il famoso, chiamiamo a livello generico pool, fin quando è in mano a politici del calcio che per loro il calcio è soltanto un business per loro stessi e non pensano a società, giocatori, dirigenti, non pensano a nulla, noi ci troveremo sempre a fare questi discorsi. Perché ieri è emblematico il fatto che oltre che non si sono mai visti due crociati nella stessa partita, ma la, diciamo, la dinamica dei due infortuni è esattamente dovuta, dal mio punto di vista, dal campo sconnesso. Perché chi non ha giocato a calcio, e ci sta, non capisce che noi non dobbiamo vedere telecamere o quando si sta in giro vediamo i campi e diciamo mamma mia quanto è bello quel manto verde. Bisogna vedere la terra sotto all'erba, bisogna vedere se è battuta bene, se è lineare, se non ci sono avvallamenti, perché noi non lo sapremo mai e non mai lo diranno. Ieri Perotti, dopo la partita, si è lamentato delle condizioni del campo. Questo sta a significare che i giocatori, quello che dicevo prima, sanno i campi come sono messi. Hanno messo il piede in maniera, sbagliata sul terreno, ma non perché il terreno era sbagliato, perché magari sotto l'erba il terreno è disconnesso. Perciò hanno dovuto fare, purtroppo, la distorsione con gravi conseguenze, non solo per loro stessi, poveri ragazzi, ma le società. Perché stiamo parlando di togli Zaniola alla Roma? Stiamo parlando del migliore? Stiamo parlando dei due, tre, tre migliori della Rosa? De Miral cosa stava combinando in questo momento, a prescindere dal gol di ieri? Ma la verva, la velocità, la capacità di giocare. Perciò le responsabilità sono della Lega. Perché ricordo, fin quando noi non facciamo qualcosa per togliere i politici dal calcio, o aggiustare come hanno fatto ora con il nuovo presidente di Lega, uomo dilodito ed ex dirigente della Pirelli, fin quando noi si mettono queste persone nel calcio, a gestire il calcio, che magari non hanno fatto nemmeno una partita all'oratorio o a calcetto, non si possono capire le dinamiche. Perciò tutta la colpa, o almeno l'80%, o la coscienza non proprio pulita lo debba avere la Lega. E si deve sentire in colpa. Ora, chi ripaga le società? Chi ripaga magari i possibili dieci gol di Zagnolo, cinque assist, che per la Roma potrebbero servire per la Champions League? Chi ci ripaga di De Amiral, veloce come pochi, visto che noi difendiamo con la difesa alta, perciò c'è un recupero spaventoso? E non ci compriamo sempre dietro le fatalità. Chiamiamoli come sono davvero i fatti. La Lega ha la percentuale più alta di questi due infortuni. Si deve sentire in colpa e deve fare qualcosa. Ora è troppo tardi, perché ormai il danno è fatto. Ora il danno è per la società, che dovrebbero andare sul mercato, rinvestire altri soldi, rimetterci di tasca propria. E poi noi siamo il campionato meno venduto del mondo. Noi siamo il campionato meno venduto del mondo. Ci sarà un motivo. Lasciamo ancora il calcio ai vari... non facciamo nomi. Lasciamoli ancora il calcio in mano a questi. Lasciamo ad ex dirigenti di azienda, ad ex giornalisti, ad ex che non c'entrano nulla con il calcio. Il calcio va capito e prima di capirlo va giocato. Pensate uno che non giochi a calcio e vada a gestire il tennis. E' la stessa cosa. Togliamo la politica dal calcio. Dobbiamo mettere grandi ex giocatori, che hanno esperienza da vendere, sanno poter parlare con società e giocatori per i problemi che ci sono. Ci potrebbero essere. Perché noi guardiamo il mondo sempre dorato perché milioni di euro guadagnano un sacco. E va bene. Ma ci sono i loro, per il loro settore, dei problemi. Che li possono gestire o capire soltanto chi nel settore fa o ha fatto parte. Perciò la Lega si fa senza sangue di coscienza. Ora è troppo tardi. Io non li penso nemmeno perché purtroppo io sono gioventino. Fossi stato soltanto di una squadra inglese, non li avrei mai visti. Perché è inutile. Soltanto guardarli mi viene da ridere. Anche perché si cerca l'aggiornamento, la gioventù. E poi vediamo quali sono i dirigenti che si occupano del calcio. Perciò, cari amici di tifo in maniera generale, qua il problema della Lega non sembra grave, ma è molto grave. Perché se ne sbattono del calcio. Perché il calcio va dato agli appassionati sia per dirigere e sia come noi che lo guardiamo. Perciò Lega, tu hai colpa. Su questi due infortuni soprattutto. Sul calendario è meglio estendere lo pietoso perché lasciamo perdere. Ciao a tutti da Frank Bianconeri, iscrivetevi al canale.